E' il momento di entrare in un universo geometrico, visivo, ipnotico, davvero poetico. Un'alleanza tra Paris, Nîmes e Montpellier per rappresentare la Francia e creare un originale lavoro coreografico che si distingue per le scelte musicali e per la qualità dei movimenti. Coreografati da Sadek Waff al Dance Theatre 2020, Le Geometrie Variable! 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.